Un'eccezionale ondata di caldo sta per interessare il nostro paese, attese temperature oltre i 40 gradi. A generare questo caldo intenso è l'espansione di Minos, un anticiclone di origine africana. Queste masse d'aria umida e calda dalle distese aride del Sara si stanno spingendo verso il Mediterraneo, provocando un innalzamento delle temperature di 8-10 gradi oltre la media stagionale, soprattutto al centro-sud. Da domani le temperature massime raggiungeranno i 38 gradi in Sicilia e Sardegna, ma il caldo si farà sentire ancora più intenso fra mercoledì e giovedì, con picchi che potrebbero toccare i 42 gradi in Puglia, Sardegna e Sicilia arrivare ai 40 gradi a Roma. Al nord però questa prima ondata di caldo estivo lascerà da giovedì spazio a qualche temporale che potrebbe assumere la forma di nubifrage e grandinate. Al sud invece il caldo non dà tregua, tanto che in Sicilia allarme siccità, con ricadute pesanti sull'agricoltura e i bacini idrici. Se la situazione non cambierà, avverte l'osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici del distretto Sicilia, si prevede che entro metà luglio il lago Fanaco nel Palermitano risulterà totalmente esaurito.